Ciao a tutti ragazzi sono Candale e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E oggi come avete letto tutti quanti nel titolo e avete anche visto la miniatura Vi insegnerò come trovare i diamanti con una facilità estrema E senza l'utilizzo delle hack o dell'X-Ray o di qualsiasi altro tipo di cheat Infatti si parla di Minecraft vanilla semplicemente grazie a un command block Ovviamente vi ho già spiegato a tutti quanti come funziona il command block Dovete scrivere give poi il vostro nome Minecraft command block eccetera eccetera E dovete inserire la stringa che troverete in descrizione in questo coso Poi fare always active e lo attivate ragazzi e vi spunterà questo macigno gigante Fatto da TheRedEngineer che è uno youtuber che riesce a creare sempre questi command block troppo epici Troverete il link del suo canale qua sotto in descrizione mi raccomando andatevi a iscrivere E ragazzi come avete letto nel titolo oggi vi insegnerò a fare un elmetto con la vista a raggis Per trovare tutti i diamanti Beh diciamo che non solo l'elmetto Come verrete vi insegnerò come creare tanti tipi di armatura Prima di tutto iniziamo dall'armatura in leather Che cosa succede se io butto un elmetto in leather Più due torce di redstone Più una nether star per terra Succede ragazzi Mi droppa l'elmetto mob X-Ray Ora starete pensando sicuramente che cos'è il mob X-Ray Riesce a vedere i mostri attraverso i muri? Eh quasi ragazzi quasi Se riesco a stare a vicinanza di un determinato mostro o di una entità come vedete Questo si illuminerà di bianco in questo modo sparaflescioso E vedete che mi dice appunto mi segna dove sono i mostri Anche attraverso i muri Quindi se per esempio dovesse esserci un creeper sotto terra E adesso vi faccio vedere allora Prendiamo l'uovo di un creeper Lo piazziamo qua sotto sotto terra E io c'ho questo elmetto Riuscirò ragazzi a vedere che si trova qua sotto Eh se magari sono anche io un genio Metto la sabbia ovviamente Comunque come vedete ragazzi ora sta morendo Ma riesco a vedere anche attraverso il muro Che c'è un creeper là sotto E quindi è molto molto comodo Perché in questo modo potrò stare attento ai miei nemici E potrò anche trovare del cibo molto più facilmente Dopodiché ragazzi abbiamo il corpetto Quindi corpetto in leather 4 pistoni e una nether star Formeranno i pistoni Non li ho tirati bene Aspettate rifacciamolo Ok così perfetto E formeranno ragazzi il corpetto a propulsione Difatti ragazzi se indosso questo corpetto Mi shifto e guardo su Inizierò a volare come un vero e proprio jetpack Se guardo giù non succede niente Però se guardo su ragazzi guardate Guardate come sto volando Verso l'infinito e oltre E soprattutto c'è una cosa che non vi ho detto di questo corpetto Se non lo indossate assieme a questi gambali E siete in modalità normale In vanilla e non Uh che sta succedendo Se siete in modalità ragazzi normale No non funziona Colpa mia avevo sbagliato frutto Allora guardate se mettete tutto questo Lo combinate in questo modo Usciranno i pantaloni anti gravità Questi pantaloni se siete in game mode 0 Quindi ora vi faccio vedere game mode 0 E utilizzate il corpetto quello che vi fa volare Che è una specie di jetpack praticamente Questi pantaloni vi permetteranno di non prendere danno da caduta A qualsiasi altezza Quindi sono veramente fighissimi Guardate ora cado ora cado Sto cadendo Oh mio dio E invece il danno da caduta l'ho preso Abbiamo appurato che i pantaloni non funzionano A meno che ero troppo in alto e quindi mi sono No non funzionano per niente Quindi questi pantaloni sono completamente inutili Non li craftate Ora ragazzi però possiamo fare i piedini di flash Semplicemente mettendo dello zucchero La nether star e poi dei piedini Guardate cosa succede Più una blaze powder in mano E guardate cosa succede Oh mio dio Addirittura lascio la scia ragazzi Guardate quanto sto andando veloce E' veramente incredibile Vado alla velocità della luce Non avete mai visto una cosa del genere E ho appena ucciso un povero coniglio Che non stava facendo niente Stava camminando davanti alla mia strada E davanti all'imperatore Non si può di certo camminare E questa era l'armatura in leather ragazzi Ora ci abbiamo una figata assurda Ovvero l'armatura in iron Ovvero quella che ci permetterà di avere l'x-ray Torniamo in game mode Di avere l'x-ray e vedere i diamanti attraverso i blocchi Avete capito bene ragazzi Infatti se riusciamo a craftare Un elmetto con l'x-ray Con la nether star L'elmetto in iron E poi il compasso Ovvero la bussola Abbiamo l'elmetto con l'x-ray Ora voi sicuramente ragazzi Non mi credete E pensate che io stia dicendo Una cretinata No ragazzi Vi posso assicurare Guardate allora Prendiamo i diamanti Prendiamo questi diamanti qua Per esempio Ce ne prendiamo 64 Bassano e avanzano Poi ci prendiamo della stone Oppure andiamo direttamente Sapete cosa? Andiamo proprio sotto terra Andiamo in game mode 3 ragazzi E vi faccio vedere Andando direttamente qua sotto Negli abissi ragazzi E nello schifo Perché ci sono tantissimi creeper E mostri Veramente bruttissimi E ora facciamo una cosa Nascondiamo questi diamanti Esattamente qua dentro Guardate in questo modo Papapero Papapero Bene Ora ragazzi guardate cosa succede Dal momento in cui Io prenderò Un piccone in diamante E cercherò di scavare Esattamente dove ci sono i diamanti Guardate Si illuminano Si illuminano E mi fanno vedere I diamanti Attraverso il muro Quindi questo è un ottimo modo Per riuscire a trovare Tutti quanti i diamanti Che volete voi Infatti basta semplicemente Avere questo elmetto Creeper te ne puoi anche andare Basta semplicemente Avere questo elmetto Ragazzi E riuscirete a scavare Tutti i diamanti Del mondo Ovviamente Per avere questo elmetto Vi servono quelle cose Che vi ho fatto vedere E soprattutto Vi serve un command block Quindi non si può fare Proprio in vanilla Al 100% Però se riuscite a trovare Un command block Ragazzi Allora riuscirete a trovare Tutti i diamanti Del mondo Senza utilizzare Alcun tipo di hack O alcun tipo di x-ray Ma le sorprese Non finiscono qui ragazzi Perché possiamo continuare A craftare nuovi pezzi Di armatura Veramente troppo epici E questo è il corpetto Protettivo Che mi da la bellezza Di più 100% Di armatura Poi fire resistance Infinita Quindi posso letteralmente Scavare E andare dentro al fuoco E non mi succederà Assolutamente niente Oh C'è della lava E allora andiamo a provare Se questa fire resistance Funziona O meno Entriamo all'interno Della lava In game mode 0 Non in game mode 1 Vedete Non mi succede Assolutamente niente Sto bruciando Ma non prendo Assolutamente del danno Quindi questo corpetto È veramente super 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 potente E adesso è arrivato il momento Di farvi vedere anche i gambali E infine i piedini Allora dobbiamo semplicemente Prendere gambali in iron Nether star E due repeater E fare in questo modo ragazzi Tirarli come vi ho già fatto vedere Oh no La sabbia non la dobbiamo tirare E vi usciranno i pantaloni Della force field Volete vedere cosa fanno questi pantaloni? Ve lo mostro immediatamente ragazzi Guardate Se per esempio io riempissi Tutta questa zona di creeper E li avessi tutti attorno a me Mi basterebbe shiftarmi Per mandarli via Tutti quanti Andate via creeper Avete capito Vi Ehi ho detto via Perché loro non vanno via Ok vedete che li sto spedendo via Completamente E quindi se per esempio Un creeper Cercasse di uccidermi O di esplodermi contro In questo modo Grazie a questi pantaloni Mi basterà shiftarmi Per mandarli a quel paese Andate ve ne avete capito Non potete combattere Contro l'imperatore Kendall Via creeper E soprattutto lo potete anche utilizzare Come passatempo Per giocare su minecraft E li spingete via Ogni tanto non funziona Non so perché Credo perché si buggino un pochettino Vedete che ora non funziona Però se lo spingo un pochettino Poi funziona Adesso ragazzi Ultimo pezzo Di ingegneria Epico Ovvero I piedini Che distruggono Tutto quanto Guardate Mi basta craftarli ragazzi E questi piedini Letteralmente Riescono a distruggere Tutto quanto E ora vi faccio vedere Come Devo semplicemente Guardare In alto ragazzi Poi sneak Salto E guardare in basso Oh mio dio Che cosa è successo Guardate Rifacciamolo Guardo in alto Salto E poi guardo in basso E distruggo tutto Ora voi sicuramente Starete pensando Sì vabbè Distruggi tutto Ma non distruggerai mai La bedrock Ah sì Non distruggo la bedrock Secondo voi Non riesco a distruggere La pietra madre Ora vi faccio vedere Piazziamo della bedrock Proprio qua davanti Ragazzi Guardiamo in alto Poi crouch Saltiamo E guardiamo in basso E ciao ciao bedrock Avete visto Ho distrutto la bedrock Con questi piedini Questi sono gli unici piedini Che riescono a rompere Anche la bedrock Se non mi credete Pensate che questa sia tipo Una bedrock finta Per il semplice fatto che l'ho presa dalla creativa Adesso andiamo proprio giù 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 E vi faccio vedere la vera bedrock E cadrò negli inferi ragazzi Allora Dobbiamo semplicemente fare così Rompiamo fino ad arrivare alla bedrock E vi faccio vedere che funziona Esattamente anche con questa bedrock Allora guardate Qua abbiamo della bedrock Perfetto E' arrivato il momento di saltare ragazzi Saltare in questo modo E poi guardare giù Oh mio dio Oh mio dio Sono caduto Ciao 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 Oh che sta succedendo Cosa Cosa Per qualche strano motivo ragazzi Credo che la mia armatura Mi abbia riportato in su Mi ha dato una spinta assurda E non so cosa sia successo Ma comunque Questa armatura è veramente Fin troppo epica E vi ho appena fatto vedere Come costruirla E come utilizzarla Mi raccomando Utilizzatela al meglio Per trovare tutti i diamanti che volete Distruggetela a bedrock Fate quello che vi pare E piace Perché è un'armatura troppo potente Sicuramente vi divertirete E qua abbiamo un coniglietto Che diventerà la mia mascotte Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Condividetelo con tutti i vostri amici Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao